Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi su GAMS con la piattaforma che ti fa risparmiare direttamente sulle piattaforme streaming come Netflix, YouTube, Premium, Disney+, Paramount+, ovviamente per accedere direttamente alla piattaforma più applicare così un codice sconto per risparmiare ovviamente su queste piattaforme ad un prezzo stracciato e in base a destra c'è anche l'offerta dell'uovo ovviamente se ci clicchiamo sopra otteniamo così anche le offerte del 7% su Netflix. di 6-12 mesi ad un prezzo buono otteniamo così anche il codice sconto il coupon del 3% su Netflix, YouTube, Disney+, e per accedere così alla piattaforma ti ho lasciato così il link in descrizione che ti porterà sulla pagina di GAMSGO questo è il link andiamo sul nostro link accediamo direttamente con un account ovviamente ti consiglio Google perché così facendo quando andrai a comprare un abbonamento ti manderanno per via email le credenziali quindi l'email e la password per accedere a una piattaforma come Netflix, Disney+, YouTube, Premium o Paramount+. quindi andiamo direttamente su Google accediamo così con il nostro account io accedo con il mio ovviamente uso sempre questo dove compro gli abbonamenti ed eccolo qua quindi in questo caso questo è il tuo profilo ci clicchi sopra vai su il mio abbonamento e qui troverai tutti i tuoi abbonamenti ovviamente se non ti fidi della piattaforma ti mostrerò io che vado a comprare direttamente Paramount+. e che faccio anche l'accesso sulla piattaforma e che applico pure il codice sconto quindi in questo caso se non hai fiducia in questa piattaforma ti faccio vedere dove io compro direttamente Paramount+. quindi in questo caso vado a comprare un profilo un mese vado ad inserire così il codice sconto che vedi sullo schermo applico così lo sconto vado direttamente al pagamento così facendo posso pagare il mio abbonamento eccolo qua tu puoi scegliere qualsiasi carta di credito che puoi inserire ovviamente metto la carta Mastercard quella sopra vado direttamente al pagamento inserisco così i miei dati sotto la censura i dati carta di credito e la data di scadenza è tutto e poi faccio direttamente paga ora ok una volta pagato così l'abbonamento ti uscirà direttamente sugli abbonamenti basta che clicchi in alto a destra sul tuo profilo e vai direttamente sugli abbonamenti ed eccolo qua il tuo Paramount è in preparazione quindi in questo caso ci metterà pochi secondi quindi ti consiglio di aggiornare la pagina e così facendo ti daranno così un email e una password da inserire direttamente sulla piattaforma Paramount Plus quindi tu aggiorni così la pagina questo è il mio abbonamento che puoi vedere sotto cioè sta sotto la censura ovviamente vado direttamente sulla piattaforma di Paramount Plus quindi Paramount Plus Italia e vado direttamente a accedi a Paramount Plus ed eccolo qua quindi io vado su accedi inserisco così l'email che mi hanno dato più la password faccio l'accesso e mi dicono anche di accedere al secondo profilo ok quindi metto l'email metto la password ecco la password poi mostra copi così la password e la metti su Paramount Plus e fai direttamente accedi all'account che ti hanno dato ed eccolo qua quindi chi sta guardando Paramount Plus e tu scegli così il tuo secondo profilo e per un mese intero hai Paramount Plus ma ovviamente puoi anche comprare quelli da due tre mesi ovviamente ovviamente hanno aggiornato parecchie cose sulla piattaforma GAMSGO quindi come avete visto Paramount Plus ho fatto l'accesso posso vedere per un mese intero tutto quello che voglio su Paramount Plus approfittatene anche delle offerte di Pasqua quindi in questo caso puoi anche comprare Office 365 ti puoi iscrivere e comprare così un mese di acquisto tre mesi o sei mesi tre mesi più il codice sconto di 7,98 euro più il codice sconto poi non lo so a quanto te lo fa scendere però tre mesi 8 euro di Office 365 con Microsoft Word, Excel, PowerPoint quindi se questo video ti è stato utilissimo su come usare GAMSGO al meglio e risparmiare soprattutto sulle piattaforme che vi consiglio veramente molte persone comprano Spotify, YouTube Premium, Paramount Plus, altre piattaforme di musica quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao